Ciao amici, siamo qua per presentare due Porsche 911 Turbo esclusive. Exclusive è il reparto della Porsche dove si costruiscono le vetture su richiesta del cliente con accessori e colori come in questo caso speciali, non di serie, anche nei cerchi. Poi ci sono tutte le altre finiture a richiesta come gli scarichi speciali, soprattutto gli interni in pelle di colore e di morbidezza diversa, questi si chiamano soft. Poi l'impianto stereo speciale Bose, ancora vediamo gli scarichi speciali con un sound più sportivo, finiture in carbonio per gli interni, in tutti i particolari, in tutte le cornici, anche questa versione che è verde di bellula ha gli interni in pelle soft di colore chiaro. Un'altra finitura può essere anche la strumentazione a fondo bianco o argentato. infatti vedete, tutte in pelle, rifiniture in carbonio e un colore verde di bellula. Un colore unico, speciale, come il mio CD con gli arrangiamenti del maestro Vincetempra. Ascoltatelo. La 996 Turbo è stata prodotta in circa 17.000 esemplari fra il 2000 e il 2005. Il motore era 3.6 biturbo da 420 cavalli. La versione cabrio di questo servizio ha invece il kit di potenza da 450 cavalli montato direttamente in fabbrica. a Grazie a tutti Le due 996 Turbo che avete visto la Cabrio monta l'Artop che era un accessorio di serie